Benvenuti in questo nuovo video di SupportaCreditOS2317, speriamo che vi piacerà, facciamo una detran, noob pro supportaCreditOS2317, quindi vediamo un pochino come va, buon inizio a tutti, io farò soltanto a versione noob No, lo faccio io, anche io No, non è vero, il mio obiettivo è fare noob pro, perché hacker io non so, io non so hackerare, voi sapete hackerare, io non so hackerare Io sì, un sacco Sono morto Io sono già caduto al primo No, va bene, ma guarda ragazzi, c'è un problema No, iniziamo bene, iniziamo Allora, allora, se non si è capito, bisogna fare SupportaCreditOS2317, esatto E poi, e poi potete giocare Sono super concentrata, non sto parlando perché sono in traiglia Sì, è la versione noob, vi prego Eh Steph, ma non le faccio da una vinta Sì, ho capito, ma vi prego Dai, su, da bravi, eh, da bravi, eh, forza Io lascio fare, e poi vado Stiamo a far proprio noob oggi, però, eh Allora, io e Fere stiamo andando qua Esatto, vai, vai, vai Guarda che sta facendo per noi, però vabbè Ho paura, ok, no? Tutto a posto Cosa dobbiamo fare? Ci arriviamo? Questa parte Dietro Ah, guarda, che bravo Ok, perfetto Poi vado qua Aspetta che se non lo cerco io No, sei rotta l'out Dai Ma quanto è difficile sto con Ma stai scherzando? No, ci sono già parti difficili Ma dove? No, è fastidioso Non è difficile Ecco, bravo Definizione corretta Non ci sono più auto, ragazzi Ma credo che basti quella che ha messo Marci, lo sai? Perché alla fine serve semplicemente rimbalzare Sì, 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 basta la sua Ah, ok Quindi vado dritto e rimbalzo, perfetto Poi Wiki Ok Ragazzi, mi è difficile sto pezzo, aiuto Ok Ma che è? Ricchio Ma dai, non so proprio l'impulso Non le so più usare Ti aspetto Ti aspetto Ti aspetto Ti aspetto Non c'è nulla Ok Va bene, ragazzi Dai, la noob Ok, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Cioè, almeno la noob edition Easy Dobbiamo farla Dobbiamo farla Tutti Finita Via Prossima Andiamo Let's go Pro edition E qua sono già un po' più spaventato Vabbè Per ora no Ogni quanto passa sta roba Non lo so Io sono però fermo la noob Opla Io faccio fare Perfetto Poi Ah, qua è la doppia E si ricorda ancora come si fa? Incredibile Ma lei è fatta veramente la prima cosa Allora, aspettiamo È proprio un ragazzo talentuoso questo Morto Vai Eh, vabbè, ma è difficile Eh Ma stai mai difficilissimo Sì, quello è il primo un po' complicato Ma forse la sopra Sì, ma prenditi l'impulso Uh Va bene No, è possibile, raga Io mi sono No Ragazzi, ma voi due siete ancora la noob? Eh Ragazzi, è gravissimo Sono morto Per la seconda volta sono un imbecille Ma faccio lo stesso errore Due volte di fila Che problemi ho? L'ho appena finita Ma come? Dovevi triggerarle Eh, no Perché ho usato le tue Fere Eh, l'ho vista Ma come? Sono morto Non ero morto Non mi ha preso Oh, io non so Fa' ste robe di fila Mi sono rotta le scatole Dobbiamo finire Vai Vai, vai Oh, finalmente San Patrizio Faccio così però Teletriggero Quando stai arrivando Questo è un cheat che io facevo sempre Quindi basta che fai quelle due Io muoio qua Uh Aspetta un attimo Con calma Secondo al contrario Secondo me Puoi fare solo la prima No, l'hai fatta per strike Mannaggia Quello di ghiaccio Corri, 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 corri Corri Sì Ho fatto Ci ho fatto Oh, me lo vale Prec'è messo meno di me A far con le trappole Ottimo Pipi, pipi Allora È doppia Oh, ma quanta concentrazione ragazzi Dopo no Opla Tra la lera Tra la la Allora Ah, ok Annaggia Oh, fatta Non è impossibile il ghiaccio, Steph Te la devi tirare Allora appena salti Ti devi ritirare la seconda Ah Si capisce nulla Non me l'aspettavo No, son morto Siamo tutti in posti diversi Morto Sì, ma credo di aver quasi finito la pro, ragazzi Ok Arrivederci Ok Allora Comunque non è scontato il fatto del ghiaccio Tu l'abbia fatto per primo, eh C'è il primo colpo No, ma io sono un esperto del ghiaccio Che succede? Eh, non ho capito questo livello No, ragazzi Sono praticamente alla fine Sto per piangere Ok Sì, l'ho finito L'ho finito Marci, tu sei ancora fermo lì? Ti giuro, non ci riesco Aspettami allora Ma che aspetto? Ti aspetto Ti aspetto Ti aspetto Ti aspetto Stef, ma ha fatto morire, sta zitto Ragazzi, l'ho fatto perché io correvo Perché mi fai ridere, mi ammazzi, Ferri? Cioè, io non voglio morire per colpa tua Non devi correre Allora Sto sudando Non ho capito questo Ce li faccio tutti di fila In quei tubi gialli, Stef Sì La fine, quando ce ne sono tre Che devo fare? Mi mandi una foto? Tubi gialli? Adesso arrivi, Marci Sto arrivando anch'io, ragazzi Sono al ghiaccio Bravo, Buddy Oh, ragazzi Guardate che è un colpo di scena questo Buddy, non correne col ghiaccio Vai un po' più lì Sì È finita? No Allora, che urli? Ho fatto il mio Sì Ho finito No Vabbè, scusami, era giusto per darci una falsa speranza, capito? Buongiorno, un altro livello per lui Ragazzi, non so quanti ve li ha Sono al 23 23,17 nello shop Te le faccio citare Se non ci riesci Fer aiuta tutti oramai Gigi No, nella disperazione bisogna aiutarsi a vicenda Allora, va bene Questo qua non riesci a fare Sì, la parte finale Ma, ma sono morto Allora, io li faccio tutti di fila Ok Il problema è che poi ci sono tre tubi alla fine e non so come prenderli Eh, sono lì Guarda, adesso ti faccio vedere se mi esce Faccio vedere dove muoio Marci, mi porta fortuna Ok, bisogna fermarsi Vai Perfetto L'ho fatto perché l'hai fatto tu Pazienza, va benissimo Ma dove si va? Sotto sopra? C'è una freccia? Sotto? Non lo so È una trappola Sicuro No, no, forse è giusto Forse è giusto Da dove? Porca miseria Allora, il primo livello hacker è facile Ok Ma quanti livelli sono pro? Scusate Non dove ho detto Eh, tipo 23 Perché si, io provo a farlo così Eh, infatti Cioè, anch'io ci ho provato un po' Quello ho capito E via Ah no Ho capito quello che dice Stef Ci finisci Questa è molto più difficile Poveri lusi Vediamo se esco a farlo Ho fatto una roba ragazzi Che la racconteranno Negli anni di smorto Finito Ok Allora, a me lo metto nel libro di storia Finché non muori non ti mettono Era fatta apposta One Two Ma che è sta roba Ah, questi tubi gialli, Stef Eh, già Ragazzi, voi state andando avanti troppo in fretta Cioè, io mi sto impegnando Troppo in fretta Sono d'accordo Ma infatti Ragazzi, ho fatto tipo tre o quattro livelli hacker Ma veramente Magari se sono più facili del pro, guarda No, se sono più facili del pro basta Io me ne vado, eh Ragazzi, che lingua è? Movaischemin Leschemines Stuttenauta Gauche de la Descent È francese Il cammino è a sinistra A sinistra della discesa Mi hai insultato Secondo me sì Ma hai fatto cadere Stai zitto Vieni quando hai fatto cadere Mamma mia Mi fa ridere Mi hanno insultato i francesi Non ho insultato Secondo me sì Un pochino Guarda che sono stati cattivi Ma fele, fai così, guarda Vado dritta Ah, anche così Sì, sì, sì Come si dice la zia del francese È una brutta persona? Non lo so Eh... Ah! Ma Ma Come hai fatto, Marci? Io sono fermo al 17 Quindi ci vediamo Dai, forza Quella è quel 17 Scusami Ma come salgo E quello in alto? Ok Ma non facciamo Ah! Io non so come salire qui sotto Ci sono 15 a sinistra, Buddy Tutto in mezzo alle trappole Oh, provo ad andare a sinistra Buddy Devo dire anche a te Ma se vuoi vengo io Però non so come arrivare Si peggiora, porca miseria Che è sta roba? No, Marci, no No, no, no No, Marci Non ho idea di che cos'è Io non l'avevo visto dietro l'angolo Devo stare a Google Translate Allora Non fa Il percorso è tutto dentro In alto a sinistra Di discesa Eh? Eh, vabbè È facile È tutto dentro In alto a sinistra Di discesa Quindi tu devi trovare una Schipposo Eccolo! No, raga Erò alla fine Ce l'avevo fatta Ma anche io Anche io, Buddy Ma voi siete molto più avanti Si, non cambia niente Guarda No, non me la ricordo Il tuo codice È francese! Stef, basta Sono morta Non prendertela con chi fa le mappe Prenditela con te stesso Che ti scari Mi hai messo un numeretto in un muro Ed è il numeretto che ti devi ricordare Per fare il livello Cosa sono, Einstein? C'è un modo per disattivare le trappole? C'è un modo per quittare No, perché Quello sì C'è un modo per fare skip level? Grazie Lo chiedo da una vita, però Come faccio a parcheggiare? No, devo Si possono abitare le trappole con un'auto? No Forse sì, sai Sì Allora Io soffrirò No, io sono scartissimo Tranquillo, questo è il video più facile Esatto Evviva Sì Non c'è nulla di troppo incredibile in hacker Bene Ok Quindi per fare male rimane la stessa difficoltà con livelli diversi Ok Perfetto Buongiorno Tanto lo so che Ah no, è la strada giusta Sto cadendo in modi stupidissimi Dovete sbagliare Sbagliare Ok Ma marci si è arrivata la parte finale finale Cioè bisogna andare nel tubo più piccolo poi No, puoi saltare già dal primo dei due tubi piccoli Eh, ci ho provato ma sono caduta e non ci arrivavo Eh, perché io l'ho fatto molto di fila Ah, batto te Non ce la posso fare Wow, tranquillo Da me fa cadere il coso Però voglio farlo Non voglio demordere Cioè devo fare Ok, non lo faccio Tranquillo Non lo faccio Non farlo più perché sennò poi si s'arrabbia ancora così a grave Mi ha ingannato Ho fatto 30.000 trappole e son morto Oh my god Oh my god Oh ragazzi, sto arrivando da voi Ahia Finalmente, Buddy No, fidati Buddy, non sei felice Esatto Non sarei più felice una volta che vedrai Non è capace di fare il primo colpo Anche secondo me Di quelle cose in cui ti intrippi Però poi gli altri ci riesco No, ragazzi, è difficile Perché è difficile quella No, niente Guardando, sono fermo ai rimbalzini io adesso qua Aspetta, vediamo dove Buddy Eh, nei rimbalzini però non ti posso aiutare a cittare Purtroppo no Lì non pot... Ti vedo ma non posso fare nulla Perché quelli mi devi fare tu Sono caduto all'ultimo No Come me prima Tu sei malato di mente Voglio finire almeno il pro ragazzi Quindi una questione di principio Eh, vorrei pulire Sì Ha finito? Non lo so Ma ho fatto una roba che Se vedete il video è impazzita No, voglio vedere Perché tanto non ci arriverò mai Ragazzi ho fatto una roba Fuori di testa Fuori di testa Adesso mi metto la musica sotto altissima Vai Basta che salti nel tubo più piccolo E puoi andare direttamente No non è per te No lo so lo so Sto parlando con Marci No ma che è sta roba No Stai calmo Che bello Marci più avanti ci sono i salti obliqui con le trappole Pornite è un bel gioco Io muoio Dopo è anche page Dopo è anche page Ci fermiamo No finisci la step No Adesso la devi finire Hai voluto farla Ragazzi no non fa Cioè non fa Ok Cosa succede No dimmi che cosa succede No salti No 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 e poi Sto andando benissimo Non puoi Sono molto felice per te Penso di aver finito Ho finito Ho finito la pro Ora ci possiamo fermare Mannaggia che l'ho finita Basta Questo è il mio massimo livello Fine Ragazzi ci vediamo in un prossimo video Quasi Però qua è veramente un po' troppo Forse Non lo so Ho trovato una roba che era una hit Cioè non voglio sentire storia Tanto che se vi è venuto in altri video Iscrivetevi al canale Capellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao